ciao a tutti allora oggi primo di un video in collaborazione con il gruppo che magari vi linko qui sotto e vi linko anche intanto tutti i canali delle ragazze che partecipano così andate a vedere anche i loro prodotti visto che questo è il video dei top 5 prodotti da supermercato ho pensato di farlo un po' diverso dal solito e di mostrarvi i miei 5 prodotti top da supermercato per quanto riguarda la cura della casa pulizia della casa detersivi eccetera perché se no nel canale sono prodotti che magari vi ho mostrato quando li ho acquistati ma non ve ne ho mai parlato come recensione allora il primo che vi mostro è questo perché da qualche parte ne volevo parlare perché è ottimo allora questo è per chi fa i piatti a mano o comunque sia prima li lava un attimo è lo svelto piatti con antibatterico menta selvatica e limone è questo qui e ragazze cioè è fantastico intanto è un litro dura tantissimo perché basta mettere sulla spugna una goccia di prodotto infatti questo è mesi che lo uso ma ne ho ancora e fa una bella schiuma pulisce benissimo sgrassa bene e mi piace tanto il profumo non è che me ne importi più di tanto però pulisce davvero benissimo con pochissimo prodotto e si risciacqua facilmente quindi questo qui io sicuramente lo ricompro perché è ottimo secondo top è anche questo sempre per i piatti questo è il sole allora sole piatti cosa dice super sgrassante a freddo igiene e brillantezza oxy comunque questo blu davvero è fantastico intanto super sgrassante a freddo non lo so a freddo però è super super sgrassante io che lavo sulla mano noto la differenza perché davvero rimuove tutto in poche passate basta pochissima un prodotto fa una bella schiuma rimuove tutto e si sciacqua anche velocemente quindi questo poi anche una bella confezione perché è un litro e cento e io l'ho preso in offerta 0,99 se non sbaglio comunque fantastico e anche questo è uno di quelli che vi straconsiglio allora andiamo avanti altro prodotto che vi mostro è questo della chante claire questo è lo sgrassatore con candeggina dice di essere igiene universale igienizza smacchia di odora pulito sicuro la confezione è un 625 ml ed esiste anche solo la ricarica a me piace tanto cioè lo uso tranquillamente su tutte le superfici cucina bagno è uno di quelli che davvero sono multiuso e servono davvero tanto dove è finita la luce ok è uno di quelli che davvero vi consiglio perché non puzza di candeggina anche se la contiene sgrassa bene rimuove un pochino lo potete mettere anche sul bucato se ha delle macchie quello bianco mi raccomando e funziona davvero molto bene io anche questo ve lo consiglio continuiamo con la carellata e questo è quello che mi ricordavo prima allora è il chief duo spray attivo con candeggina eccolo qua ha la doppia azione del tappo che può essere sia spray che mousse perché il tappo si gira in questo modo potete scegliere se l'azione spray nebulizzata o i mousse è fantastico per la casa tranquillamente davvero pulisce benissimo ed è devo ammetterlo questo qua l'ha comprato a brontolo anche per il garage perché con le parti di motore non so che cosa comunque anche muovendo un po il lavoro in casa pulisce davvero tanto quindi è super potente usatelo con i guanti ma davvero questo rimuove tutti i residui anche di calcare di sporco anche mi piace sia in bagno consiglia ho letto adesso di usarlo anche per smacchiare i tessuti devo provarlo perché lo chantecler l'ho provato e funziona ora proverò anche questo comunque sia altro prodotto che vi consiglio l'ultimo prodotto è questo per i vetri si chiama chiaro luce per i vetri glass vetri ok 10 in 1 e dice che è un contenitore infinitamente reciclabile che non è male 300 ml allora io tutte le volte che lo vedevo in negozio visto che ha un prezzo basso sui 2 euro l'ho sempre snobbato e invece è in spray è fantastico intanto perché pulisce bene i vetri assolutamente gli sgrastasi per caso ha un attimo di sporco non lascia gli aloni ed è anche i panni non gli fa attaccare in modo che abbia pelucchi quindi si pulisce velocemente è facile e pratico l'ho detto che non lascia aloni va bene anche per i vetri della macchina e se lo applicate lo spray su un panno potete non direttamente ma lo spray su un panno potete pulirci anche gli schermi anche quello del computer del telefono quelli televisore lcd tranquillamente questo brontolo me l'ha garantito quindi ok e quindi anche questo i prodotti che magari non ci stavamo attenti invece funziona davvero e non costa tantissimo allora questi erano i 5 prodotti top dal supermercato e qui sotto nell'info box c'è il link di tutte le ragazze con i loro video che partecipano a questa collaborazione se vi è piaciuto questo tipo di video vi sono stata utile avete provato qualcuno di questi prodotti e quali vi interessano di più se vi ho tenuto compagnia fatemelo sapere con un commento e mi raccomando se ti è piaciuto il video mettimi un like iscriviti al canale e ricordati anche di cliccare sulla campanella così vi verrai visata ogni volta a cliccare con un nuovo video alla prossima ciao ciao